La cerimonia di insediamento dopo la rielezione di Hugo Chavez alla presidenza della Repubblica Colombiana è stata rinviata fin quando il capo dello Stato non si sarà rimesso. La decisione è stata presa dal Parlamento di Caracas sulla base di una lettera del vicepresidente Nicolás Maduro. Il presidente sta già esercitando i suoi poteri di capo dello Stato, di presidente della Repubblica e di capo del governo. In nessun momento la Costituzione qualifica questo Stato di cose come un vuoto. Non parla né di vuoto temporaneo né di vuoto permanente, al contrario, apre alla flessibilità rispettando la volontà popolare e la volontà generale della nazione. La richiesta di un rinvio è stata giustificata in base all'articolo 231 della Costituzione. Richiesta dall'opposizione di pronunciarsi, la Corte Suprema ha confermato questa interpretazione. L'incertezza sul da farsi tuttavia si riflette anche nell'opinione pubblica. Il presidente sta già svolgendo le sue funzioni e in esercizio perché anche il presidente è uscente. Il suo mandato è stato rinnovato per cui è sempre lui il presidente. La cerimonia formale si potrà fare in ogni momento. Ci si allontana sempre di più dalla Costituzione. Questo è un male per ciascun cittadino. Credo che sia una strategia perché restino al potere. Mentre in Venezuela si prega per lui, Chavez si trova a Cuba dove a dicembre scorso è stato operato per la quarta volta di tumore.